Eccoci giunti alla lezione numero 17 per l'iso e i tratti del carattere. Parliamo oggi delle personalità cerebrali emotive. Quali sono le personalità cerebrali emotive? Le personalità cerebrali emotive sono quelle che hanno sviluppato maggiormente la parte alta del viso, questa, dalle sopracciglia fino alla somma del capo e la parte che va dal naso, diciamo da sotto il naso alle sopracciglia. Le hanno meno sviluppate la parte bassa, quella che va da sotto il naso fino alla punta del mento. Quindi tra queste tre parti quella deficitaria è quella istintiva, mentre quella emotiva e quella cerebrale sono entrambe sviluppate. Entrambe sviluppate queste parti significa che possono anche essere in conflitto. Quindi questa personalità può essere una personalità realizzata se è riuscita a armonizzare le parti prevalenti, che sono le parti logico, razionale o cerebrale e la parte emotiva. E se non ha castrato del tutto la parte istintiva. Quindi questa personalità può essere molto sviluppata, molto equilibrata, raggiungere buoni successi a patto che riesca a creare un'alleanza tra la parte cerebrale cognitiva e la parte emotiva, che altrimenti si farebbero la guerra, diciamo, tra loro. E deve dedicarsi al suo istinto. Dedicarsi al suo istinto significa spingersi ogni tanto a fare delle cose impulsivamente, senza pensare troppo e senza viversi troppe emozioni, concedersi una vacanza istintiva. In questo modo sarà una personalità che potrà avere un buon successo e una personalità integrata. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Vi invito a seguirmi sul blog www.soluzionisv.com. Ciao!